In questo mese di maggio, che tradizionalmente è specialmente dedicato alla Beata Vergine Maria, il Papa ha invitato a pregare con più fervore il rosario, questo metodo di preghiera che ci viene consegnato dalla tradizione cattolica e che da alcuni è stato anche dileggiato. Alcuni definiscono il rosario un'arma e questo deve essere inteso correttamente. In effetti è un'arma perché aiuta la nostra mente attraverso la preghiera alla Madonna a concentrarsi sugli episodi che formano la storia della salvezza. La nostra mente tende a sfuggire, è spesso il nostro nemico più grande. Il rosario aiuta a focalizzare l'attenzione nella preghiera, è uno strumento potente per pregare con più convinzione e con più devozione. Certo ci si può distrarre anche dicendo il rosario, questo accade, permettendo ai pensieri molesti di insinuarsi. Ma per questo chiamiamo il rosario un'arma, perché c'è una battaglia in corso e in essa ci sono, come in tutte le battaglie, delle vittorie e delle sconfitte. Il Papa Benedetto XVI, parlando al termine della recita del rosario nel 2008, diceva che nel mondo attuale così dispersivo questa preghiera aiuta a porre Cristo al centro, come faceva la Vergine che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del suo figlio e poi quello che gli faceva e diceva. Come detto, il rosario ci aiuta a porre Cristo al centro. Non è importante se a volte, come ho detto, usciamo sconfitti dalle nostre battaglie contro le distrazioni. Importante è non darla vinta alle stesse distrazioni. Questo lo hanno capito i santi, come Santa Teresa di Calcutta, che diceva, aggrappatevi al rosario come l'edera si attacca all'albero, perché senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi. Oppure San Giovanni XXIII, che diceva a sua volta, il rosario che dall'inizio del 1958 mi sono impegnato di recitare devotamente tutto intero, è divenuto esercizio di continuata meditazione e di contemplazione tranquilla e quotidiana, che tiene aperto il mio spirito sul campo vastissimo del mio magistero, il ministero di pastore massimo della Chiesa e di padre universale delle anime. Insomma, il rosario non è passatempo per vecchiette, ma strumento che tutti abbiamo a disposizione per avanzare nella nostra vita spirituale. Nella enciclica Rosarium Virginis Maria del 2002, San Giovanni Paolo II affermava il rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella soprietà dei suoi elementi concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. Poi il grande papa polacco così continuava. In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l'opera dell'incarnazione retentrice iniziata nel suo grembo virginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. Mediante il rosario, il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della madre del Redentore. Sappiamo, infatti, come Giovanni Paolo II fosse devotissimo alla beata Vergine Maria, a cui ripeterà il totus tuus fino alla sua ultima sofferenza. Insomma, il rosario non è una cosa del passato, ma un mezzo attuale per rivolgersi al Signore in compagnia di sua madre.